Voltiamo lì! L'abbiamo preso! Centrato! Bel colpo! Li abbiamo danneggiati! Sì! Versaglio acquisito! Perchiamo un'altaversaglio! Centrato! Veicolo nemico distrutto. Attenzione! Resirati! All right! All right! All right! All right! All right! Versaglio acquisito! Cerchiamo un altro versaglio! Centrato! Veicolo nemico distrutto! Non lo abbiamo bucato! Watch out! Retreat! Non lo abbiamo costruito! E allora! Questa è la mia! Questa è un'escalante! Allora! Grazie a tutti. Rimpassato nemico danneggiato! L'abbiamo preso! È rimbalzato! Rimpassato nemico danneggiato! Rimpassato nemico danneggiato! Rimpassato nemico! Rimpassato nemico danneggiato! 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 Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. Sì, sì. 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 Sì.